bentornati ragazzi sul canale tutto tech che cosa vedete qui l'ecospot e poi un accessorio società plus hack fa accessori per tutti i nostri assistenti vocali in questo caso mi ha inviato un accessorio che rende portatile il nostro ecospot adesso apriamo la confezione insieme andiamo a vedere che cosa c'è al suo interno e vediamo come funziona manuale di istruzioni la basetta che adesso andiamo a togliere dalla confezione guardiamo un po più nel dettaglio com'è l'accessorio ora io ho messo già sopra ho già montato il mio ecospot nella parte sottostante troviamo l'indicazione l'indicatore di carica della batteria dello stato della batteria ruotandolo nella parte posteriore troviamo alimentazione originale dell'ecospot il cavetto che va ad alimentare l'ecospot e l'usb c per poter ricaricare il cellulare o qualsiasi accessorio che utilizzi questo cavetto il prodotto è in plastica una plastica dura e resistente ed anche questo è dotato di antiscivolo di gommino antiscivolo in modo tale che aderisca perfettamente alla superficie dove avete deciso di collocare il vostro supporto con ecospot come vi dicevo una volta ricaricata la batteria posso serenamente portarmi in giro il mio ecospot continuare ad ascoltare la musica o interagire con tutte le funzioni smart del mio assistente vocale ma non solo ho la possibilità di poter ricaricare nel frattempo il mio cellulare qualche caratteristica dell'accessorio a parte avere l'usb c per poter ricaricare il nostro cellulare o qualsiasi altro accessorio funzioni con usb c ha una batteria integrata da 5000 mAh ci sono due modelli uno che finisce con e11a ed è quella da 5000 mAh quella che mi hanno inviato e dopo di che c'è il modello e11b con 10.000 mAh facendo un utilizzo con un volume sotto il 100% si hanno circa 4 ore di autonomia quindi più che sufficienti per magari godermi una giornata di sole sì lo so siamo in inverno adesso no però quando arriva l'estate uscite fuori vi leggete un libro nel frattempo di sottofondo ascoltate una canzone rilassante vi attaccate al cellulare la ricarica del cellulare all'accessorio meglio di così magari una bella bibita fresca d'estate potete fare questo d'inverno vi potete portare il vostro eco in bagno rilassarvi nella vasca da bagno facendo un bel bagno caldo candele musica luce soffusa meglio di così per poter ricaricare al 100% il prodotto servono all'incirca tre ore il prodotto è disponibile nelle colorazioni nero naturalmente avendo l'ecospot nero prediligo il nero e poi bianco prezzo dell'accessorio 39 euro e 99 anche questo è la possibilità di poter sostituire la vostra vecchia radiosveglia mettere questo accessorio sul comodino molto compatto e darvi la possibilità di collegare il cellulare quindi di alimentarlo in più di avere la vostra sveglia smart vi lascio qui sotto naturalmente il link per poter acquistare l'accessorio bene ragazzi io direi che per questo video è tutto ringraziamo nuovamente plus hack per l'accessorio che ci ha inviato e ci vediamo al prossimo video ciao ciao